Ciao, sono Lea Gavino, ho 25 anni e sono un'attrice, o almeno tento di fare l'attrice. Stavo notando che una delle qualità che tutti ti riconoscono in scena è la grazia. Ti ci ritrovi o ti sorprende? Mi sorprende, no perché dipende che cosa si intende per grazia, non lo so, questi aggettivi sono sempre un po', cioè se mi devo immaginare cos'è la grazia, mi vengono in mente delle donne molto classiche, così, e in parte magari c'è quel lato lì, però c'è anche un lato un po' più giocoso, quindi facciamo una grazia giocosa. Ecco, tu racconti spesso di aver iniziato quasi per caso, quindi immagino senza ragionare troppo sui tuoi punti di forza, oggi li vedi? Quali potrebbero essere oggi, ne sei consapevole? Non lo so, non lo so se ho dei punti di forza o se sono i personaggi che ce l'hanno e cerco di portarli in scena, quindi forse un punto di forza può essere il fatto che avendo studiato psicologia magari riesco a fare un identikit del personaggio più profondo rispetto a quello che avrei fatto se non avessi fatto anche quell'altro percorso di studi, quindi forse mi darei questa cosa qua. Visto che il provino di Scam ti ha praticamente travolta, ti ha piombato addosso, per quest'ultimo film invece com'è andata Una storia nera di Leonardo D'Agostini? Per Una storia nera mi ricordo che c'erano questi provini che giravano, che stavano facendo tutti, a un certo punto è toccato anche a me, e insomma se ne parlava molto perché era una scena molto complessa e quindi eravamo tutti, oddio come si fa questa scena, comunque era la scena del merluzzo con Nicola e mi ricordo che stavo immaginando come poterla fare e è stato divertente perché mi faceva da spalla al self-tape mio fratello ed era una scena tra due fratelli, quindi forse quello ha dato un po' più di verità. E poi c'è stato un secondo callback in cui ho conosciuto Leonardo e ci siamo subito trovati e mi ha dato delle indicazioni, quindi piano piano ho capito come funzionava e niente, poi la notiziona. Senti, ascoltavo qualche junket e Andrea Carpensano diceva che lui tende a non approfondire troppo né il personaggio né la storia, per non giudicarli, soprattutto su un film come questo, no? Il tuo approccio è molto diverso oppure un po' ti ritrovi in quello che dice? Il mio approccio? Ma nel senso io l'approccio che utilizzo per creare poi un personaggio dipende tantissimo dal personaggio che affronto, cioè ogni volta che ho preparato appunto un ruolo diverso c'è stata una preparazione diversa, non ho un rituale di preparazione. Per quanto riguarda Rosa, per esempio, dell'ultimo film, essendo che aveva tantissime scene emotive con una profondità, una temperatura proprio emotiva molto particolare e molto forte, diciamo non ho voluto provare o prepararmi chissà quanto, più che altro ho voluto lasciarmi andare alle emozioni al momento presente che poi vivevo in scena. Quindi dipende, cioè qualche volta magari mi avvicino al modo di lavorare che ha raccontato Andrea, qualche volta magari per Artemisia Gentileschi quando ho lavorato con Michele Placido c'è stata una preparazione molto più precisa, se vogliamo chiamarla così, perché appunto si trattava di un personaggio realmente esistito, quindi volevo dare una precisione appunto storica oltre che recitativa. Trovo interessante anche un altro aspetto, cioè in cosa è stato diverso il modo di lavorare e di condividere la scena con Francesco Centorame da una parte per Scam e con Andrea Carpensano stavolta per Una storia nera? Allora, è stato diverso perché con Francesco per esempio abbiamo fatto, con Francesco e con Tiziano Russo che è il regista abbiamo fatto un sacco di prove, cioè abbiamo costruito il rapporto tra Elia e Viola perché era una storia che secondo me si reggeva tanto su la proprio linea narrativa di loro due e il legame, cioè nel senso era il legame tra loro due che portava la scena avanti, mentre con Andrea questa cosa non c'è stata per scelta di entrambi e di Leonardo e anche perché il rapporto tra loro due si crea sull'improvviso non legame, quindi secondo me non provare è stato anche vincente tra noi due di doverci trovare a condividere la scena con due idee diverse senza aver comunicato, con due proprio mentalità diverse che sono quelle dei due personaggi che sono opposti e quindi questo ha favorito poi secondo me la riuscita delle scene, quindi forse è stata la costruzione del legame e invece la costruzione del non legame ad essere totalmente diversa. Tu mi pare di capire sai della filosofia che le scene si basino sui conflitti, che siano conflitti detti o sottintesi, mi piace molto, me ne parli un attimo? Secondo me sì, soprattutto quelle drammatiche secondo me si basano sul conflitto, cioè io voglio una cosa e tu ne vuoi un'altra, oppure io ho una necessità e tu ne hai un'altra, quindi trovare quel contrario che c'è tra due persone che vivono un conflitto mi aiuta a cercare di portare in scena una profondità anche di rapporto, quindi anche per Biola e Delì è stato così, io volevo che lui mi volesse e lui voleva che io non lo volessi, quindi c'era questo conflitto qui e ci ha aiutato appunto in quel lavoro lì parlare di questi conflitti, invece con Nicola, cioè con Andrea, essendo che c'era questo anche alone di angoscia e di claustrofobia dentro il film e di spaisamento e di apnea, non sapere il conflitto che portava in scena Andrea mi aiutava a cercare di bramare il mio, cioè la mia necessità e non capire che cosa volesse lui mi ha aiutato tantissimo, quindi sicuramente io penso che ci deve essere un problema, se no il film non esiste, cioè ci deve essere un incidente dentro ogni scena e dentro il film, perché se no non avrebbe senso di essere raccontato una storia, oppure sì, però in maniera magari più ludica piuttosto che drammatica. A questo proposito nella vita sei una da conflitto diretto o da conflitto sottinteso? Diretto. Giustamente ridi. Senti, tu e tuo fratello Damiano condividete il sogno di lavorare insieme un giorno, ma volete aspettare il progetto giusto? Allora, due domande, avete già rifiutato qualcosa? E quale sarebbe il progetto perfetto se potessi scegliere? Abbiamo rifiutato qualcosa, il progetto giusto è un progetto dentro il quale possiamo avere lo spazio di portare in scena, cioè la riflessione che abbiamo fatto in realtà è stata facciamo lo stesso lavoro, lo vogliamo fare per tutta la vita, c'è tempo per fare una cosa insieme e la cosa che vogliamo fare insieme è, cioè saranno poche, ma magari ne possiamo fare massimo due in cui facciamo i fratelli, quindi abbiamo, cioè vorremmo che ci fosse una poesia di legame che rispecchia anche il nostro tipo di legame, che non deve essere per forza che sono due fratelli uniti, però devono essere due fratelli con un conflitto che valga la pena o comunque uno spazio condiviso, uno entra nello spazio dell'altro, cioè vorremmo che ci fosse uno spazio comune dentro il quale giocare insieme e una storia che ne valga la pena, una storia interessante, nelle corde di tutte e due, con due personaggi singoli prima di essere fratelli che ci piacerebbe raccontare entrambi, quindi questo, poi ovviamente non dipende da noi, cioè nel senso noi che arriviamo e diciamo vogliamo fare film insieme e ci danno il piatto col film, cioè ce lo devono proporre oppure dobbiamo fare i provini e dobbiamo trovare, insomma, è una cosa che non dipende da noi. Allora Lea, qui facciamo un gioco, si chiama Tre Nomi per Tre Serate, significa che noi ti diamo tre nomi e tu ci dici la serata ideale che organizzeresti con ognuno di loro. Per te abbiamo pensato a Damiano Gavino, a Francesco Gheghi e a Nicole Rossi. Allora, con Damiano una serata probabilmente mi piacerebbe in montagna, perché noi abbiamo questo posto del cuore che è l'Alpe di Siusi, in cui andiamo con la nostra famiglia da sempre, quindi una serata magari dopo una bella passeggiata in montagna, in una bella baita con magari un pianoforte e condividere un momento musicale, oltre che questo forse mi verrebbe in mente. Con Francesco, con Francesco in questo momento mi viene in mente sempre un viaggio, magari al mare con un bel tramonto, un bel bicchiere di vino che lui non verrebbe, purtroppo. Quindi un bel bicchiere che verrei io e le nostre chiacchiere che sono sempre molto divertenti. Con Nicole, forse siccome insomma è bella pazzoide, è una serata bella pazzoide, un po' rock, magari un concerto, perché no? Invece ci salutiamo con la playlist di Lucio, stavolta ti chiedo tre canzoni per tre grandi ricordi della tua vita. Una che mi viene in mente è La verità di Bruno Risas, è un ricordo che ho di io, mio fratello e mia madre, che la cantiamo a squarciacola in casa, con la voce di mia madre che sovrasta tutte, perché insomma ha una voce molto profonda e le piace urlare, quindi forse è questo. Poi mi viene in mente vivere di Vasco, perché facevamo dei lunghi viaggi in macchina, appunto forse verso la montagna, quando ero piccola e c'era la playlist di Vasco Rossi che andava, i paesaggi che scorrevano, e io avevo l'impressione di essere rilassata e felice, come quella serenità che puoi avere solamente quando sei piccolo, perché non hai pensieri, c'è chi bada a te e tu non devi pensare a niente, se non ad essere tranquillo e felice, quindi forse questo. Ah, la terza potrebbe essere una lunga passeggiata forzata che ho fatto con una mia amica a Sabaudia, perché siamo rimaste a piedi e abbiamo fatto tipo quattro ore a piedi per tornare a casa, che era al Circeo, in un paese di questa mia amica Carolina, che è mia sorella, con Fiori Rosa, Fiori di Pesco, di Lucio Battisti, completamente esaurite con la musica dal telefono, perché non ce la facevamo più e ballando per la strada, esaurite però quelle cose che in quel momento dici, oddio mio che palle che sto vivendo questo momento di esaurimento nervoso da camminata, ci hanno lasciato il legno e dobbiamo andare a piedi, che però adesso quando ce lo ricordiamo insieme è diventato un ricordo inestimabile, quindi forse quel momento lì. Grazie Lea. Grazie.